Non era da escludere che nelle acque del porto salernitano potesse esserci ancora qualche residuo bellico e così come qualche anno fa, anche questa volta nel corso dei lavori di dragaggio del porto di Salerno, è venuta alla luce una bomba d'aereo da 100 libri di costruzione statunitense risalente al secondo conflitto mondiale con all'interno circa 28 kg di tritolo. Sono stati i palombari del gruppo operativo Subacui del Comando Subacui ed Incursioni della Marina Militare, distaccati presso il nucleo sminamento difesa antimezzi insidiosi di Napoli, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno e sotto il coordinamento della Prefettura, a far brillare nel corso della mattinata di ieri a mezzogiorno l'ordigno bellico rinvenuto dalla draga durante l'aspirazione della sabbia dai fondali dello scalo salernitano. L'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione americana e contenente, come dicevamo, circa 30 kg di esplosivi, è stato identificato, rimosso dalla nave Bradel e trasportato a largo di Capodorso, in una zona di sicurezza individuata dall'autorità marittima in collaborazione con il responsabile delle operazioni di brillamento. La zona di mare è stata interdetta a qualsiasi attività, mediante l'emanazione di un'apposita ordinanza, da parte della Capitaneria di Porto di Salerno, che ha provveduto, mediante le proprie motovedette, ad assicurare l'indispensabile cornice di sicurezza nell'area interessata. Le operazioni si sono svolte in breve tempo, prevenendo ogni potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.